È partita abbastanza bene, deve trovare un po' la quadra fuori casa, però penso che farà un ottimo campionato. Siamo partiti proprio in questo istante e noi vi offriamo questo spettacolo del massimo campionato regionale in diretta su Calabria TV, canale 13 del Digitale Terrestre e sulla pagina ufficiale di Stadio Radio della LN di Calabria. Intanto adesso vediamo se Buongiorno riesce a sgomitare, ce la fa, è anche trattenuto, ottimo pallone per Crispino che lo mette al centro e poi fa buona guardia a Bertucci, siamo al limite dell'aria. Si allarga Falco, pallone attenzione al centro con questa botta di Crispino di sinistro, ma è ribattuto il pallone, ma ancora Falco, vediamo se lo mette al centro, occasionissima questa Falco e poi ci sarà il primo corner della gara. Perché come diceva il mister Cucitti e si vede probabilmente anche nelle immagini è un furetto, non riesce a stare proprio fermo, attenzione però. Attenzione però a questo pallone, vediamo posizione regolare e c'è stata questa giocata davvero molto pericolosa con il numero 14 Raso che si stava rendendo deciso per tre uomini in barriera. Arriva il fischio dell'arbitro, parte carrozza e c'è la parata di Spanò. Fischia l'arbitro, si allontana Crispino. Poteva essere questa una bella occasione, ma non ha fatto un buon lavoro. Misuri, pallone per Crispino ancora. Bella questa palla sul secondo palo che diventa una parabola arcuata. Tutto pronto, stiamo per partire per questo secondo tempo. Ve lo racconteremo qui dallo Stefano Rizzo con mister Vincenzo Pagino al mio fianco. Per tutti voi amici di Stadio Radio e di Calabria TV, digitale terrestre, canale 13. È ripartito il secondo tempo della gara rossanese-Cittanova. Arriva il fischio dell'arbitro Biondo. Palla di destro, scodellata. Ci stava per arrivare in maniera pericolosa, bagliata. Spino che prova a mettere questo pallone al centro. Attenzione, riconosciuto, riconosciuto. Rischia tantissimo. Cuzzilla che stava quasi per commettere un'autoretta. Attenzione, riconosciuto. È il pallone che entra con il colpo di testa di riconosciuto che va a colpire sul secondo palo. E va a dedicare questo gol al tifo organizzato rosso-blu. Abbiamo portato bene, ha riconosciuto. Abbiamo portato bene, Franco. Il fischio dell'arbitro. Tanti giocatori in aria. Attenzione a Crispino che prova direttamente. Pallone che si perde non altissimo. Vediamo se Raso ci arriva. Tiene il pallone in campo sulla corsia di destra. Un dribbling. Entra in aria. Allarga. E va a calciare davvero molto bene. Dipendere, sono praticamente tutti nell'aria. Pallone. Sul primo palo, attenzione. E c'è il gol del capitano Condomitti che è riuscito proprio al limite dell'aria piccola a realizzare il gol dell'1-1 per la squadra ospite. Un giocatore coraggioso, uno di quelli che ci ha creduto. Buongiorno, che svaria su tutto il fronte offensivo. Riconosciuto. Bella palla questa. Poi c'è il numero 17, Pisani, che su cross di riconosciuto. Stanno facendo una bella battaglia. Bella partita. Come dicevamo, attenzione a questo pallone pericoloso con la girata di Buongiorno che sbaglia. Non diciamo un gol facile, però. Coris, ma pallone inavvicinabile, anche se Coris da uomo spogliatoio ha fatto un applauso. Attenzione a Pisani. Buongiorno, bella triangolazione questa con il numero 10, Falco, il 2005 che tira. Ma tanti sono i giocatori della Rossanese pronti ad entrare nell'aria. Vediamo la parabola che disegna Crispino con questo pallone. Proprio con la sua tecnica cerchiamo di capire cosa può fare. Innesca, riconosciuto dall'altra parte Crispino. Attenzione, tenta con una finta. Poi attenzione, cerca Pisani. Ma fa buona guardia Spano. Alla fine, palla dall'altra parte. Addirittura di serio, fuori dall'aria. Allarga subito per Barbieri. L'arbitro decreta la fine della partita. Uno a uno tra Rossanese e Cittanova.